Dobbiamo limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità, come il caso di fare la spesa. È importante essere consapevoli, dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Se saremo tutti a rispettare queste regole, usciremo più in fretta da queste mangenze. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada e una volta lì pensai di correre fino alla fine della città. E non so proprio perché continuai a andare. E così lei ha corso e basta. Tutti insieme ce la faremo. Già.